Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma anche alcune delle foto hot di Michelle Puttini e quindi sì, farò revenge porno su Michelle Puttini. Perché mi sto vendicando? Non si può dire. Revenge per cosa? Esatto. Eh, bro. Vi ricordate quando vi dicevo ah che palle quando ci sono cose off live di cui non posso parlarvi perché evidentemente hanno a che fare con personalità pubbliche che conoscete anche? Se le palle esce, basta! 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 Una salute già metafore. No, no, no. Allora raga, vi dico solo... Poi ovviamente vi racconto un attimino com'è andata. Fa una merda! Ah, io non vedo ora... Cioè il fatto è che ho fretta, che sono una testa di cazzo che ha sempre fretta. E quindi sicuramente domani finirò con... Sicuro. Sicuro anche domani post telefonata sarò... Con la differenza che questa qua che ho già fatto era gratuita ovviamente perché è la prima di conoscitiva. Questa qua la pagherò e quindi mi darà ancora più fastidio. Comunque... Ci sto pensando... Non credo. Non credo. Perché mi fa cacare stare... Mi fa schifo l'odio. Infatti, sono contenta del fatto che lo odio così tanto. Sono contenta che come mi sono accorta che stavo ricadendo nel lupo ho detto... Psicologa. Basta. Era l'ultima... Era l'ultima goccia. Mi serviva quest'ultima goccia... Psicologa. Fa un culo. Basta. Quindi non credo, ti giuro. Non credo. Grazie mille Kamalaro per il quarto. Luisi no? Perché sennò diventa una cosa un po' troppo pesante. Quindi... Secondo me non è male. Ovviamente tipo deve essere di quelle situazioni in cui se io ti conosco da mezzo mesi per il secondo dici ah non resti che di merda. Non lo so se sia tipo il caso ma se siamo in confidenza. Sì e direi che noi siamo in confidenza ormai da un anno. Dai. Sarvelare l'altro del cane di Mario che dice divertiti. Porco Dio. Questo è vero. Grazie mille Popeschino per il nonno mese. Thank you so much. 9 mesi di pro... Cazzo. Quelle solo che ho selezionato. Quindi quando finiranno di caricarsi... Io lascio qua il pc acceso. Sono queste che vi ho fatto vedere. Non tutte quante. Tutte quante raga. Next time. Ma così sono compresse. Non va bene? Ho rotto te. Aspetta. Aspetta. Mi sento che ho iniziato con questa cazzata del tappeto. Sì ma voi l'avete portata troppo avanti. Cioè io volevo fare semplicemente l'esempio. Cioè basta. È finita lì. Voi vedo questo tappeto però. C'è la valigia. No. Merda. È il tappeto e la valigia. Raga. È il bagaglio. Merda. Merda. È il bagaglio. Alessio. È il bagaglio. È il bagaglio nel tappeto. Sì ma il punto è che se sotto il tappeto ci avete messo lo sparco in due e se però c'è una capra. Non può mai attrezzare il tappeto. Che porta. Che porta la fanciulla al palazzo reale. Bro c'è un casino. C'è un casino. C'è un casino. Allora. Vabbè. E ci siamo fatti anche la promessa che siamo migliori amichetti eh. Che merda di... Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo di merda. Che... Fa schifo. Fa veramente schifo. Fa veramente schifo. Fa veramente schifo. Fa veramente schifo. No. Non chi. Non è che Mario fa schifo. Fa schifo la situazione. No no. È proprio... Ho un lavoro strano. Sta per guadagno 10k al mese. Luca Mancu. Ma che idea c'hai tu dei guadagni di Twitch? Dio porco. Vi voglio... Ti voglio prendere a puni in questo momento. E quindi l'ho fatto ieri. L'ho fatto ieri. E adesso... Adesso ce l'abbiamo. E la cosa divertente sapete qual è? Che tutte queste fotine che abbiamo fatto sinceramente mi fanno cagare tutte. Cioè io non ne userei nessuna sinceramente eh. Ma perché è tutto buio. Cioè... Cioè proprio come... Come... È tutta nera. Cioè ci stiamo noi e dietro è tutto nero. Perché appunto lo sfondo eccetera è tutto molto scuro. E quindi siamo estremi. È stato un genuino. Raga voglio dire ci sta anche che tipo il giorno in cui ti lasci sei la merda. Ok? Quindi è partito da lì. È partito da... Oggi sto di merda. Quindi ovviamente evitiamo. Mi accorgo che attaccherei ma non potendone parlare e indossare una maschera mi fa cagare. Non lo so fare. Porca puttana. C'è anche a dire che... Di nuovo io non sono proprio il tipo di persona che lo può fare. Perché tutte le volte che mi sono triggerata in live. Che ero arrabbiata in live. Che ero triste in live. Si nota. Io non sono capace di... Ehi. Torneo dei gatti? Torneo dei gatti? Torneo dei gatti? Torneo dei gatti Sì Torneo dei gatti Però ho pianto tre volte il tuo Quello intendo Non lo so fare Non lo so fare Figaro riceve l'amore Perché Perché Piangiamo Perché La vita è così ingiusta Perché Grazie mille Molina anche per la Per la sabre gatti Thank you so much Perché State guardando questa live in questo momento Cosa hanno di così patetico le vostre vite in questo momento? Da essere qua a sentire una difficoltà E tutta la metà per averlo La bambina sei tu La ginocchiata sui avvenimenti Che ti sono capitate in ultimi periodi E il pangoccio le twitch Una cosa che ti stava godendo Ma che te li va a spengola Per un attimo E rischiava ad ammazzarmi Già Già Comunque Incredibile Cioè dire anche Che la maggior parte Si lamenta anche per delle cazzate Ingigantendo le cose Allora Sai cosa? Sì Ma allo stesso tempo Per me Nel momento Anche se razionalmente Riesci a spiegare una cosa Che magari è una cazzata Non ci puoi fare niente Cioè se una persona Sta mai per una cosa Che cazzo ti vuoi dire? Cioè Non puoi invalidare Quello che sente Solamente perché Magari per te Questa cosa è una cazzata Non ci si può fare niente Cioè I sentimenti sono i sentimenti Non so se capisci Bricio Cioè Il cuore Al cuore non si comanda Scusami I sentimenti Cioè sono questa cosa Un po' Boia che cringe A voglia Tutti soffrono Perceviscono il dolore Ma dolore Esattamente Ma quando parli così Lo giuro Vogue se ti ha gostate Già una risposta Lo so Perché stai mentendo Lo giuro Non c'è niente da farle fare Non c'è da mettere a posto La stanza No Qua c'è una merda Per quanto riguarda i vestiti Che c'è un bordello Come quando è venuto tu Stracchino Però niente di così esagerato È stata molto peggio Questa stanza Quindi direi Che siamo messi a buon punto Comunque giuro Ma anche io ce l'ho a spostare Un armadio easy Ma anche io devo fare trasloco Ma che zonè Non sto dicendolo via Non sto dicendolo via Ma Vabbè E Quindi questa Che l'ha fatta? Aspetta Forse è carota? È carota? Che ho visto che fa modellini? No Ok Federico Chi è che la fa? Chi la fa? Federico Reggi sotto No non ci sono Questa sì Questa è decisamente Che gran entusiasmo per la sub Grazie mille Brother Per questa sub Oh mio Dio Adesso posso andermi a comprare un caffè Con la tua sub Grazie mille Aspetta Fa che ti succhi un attimo Ancora un po' di più Ultima cosa Mi fa cagare quest'outfit Perché me l'ho già vestita in teoria per l'uscita Ma mi fa molto cagare Com'è? Per il karaoke Outfit tifa Com'è? Per il karaoke Va beh Vabbè Ti sei messa a ridere per una bimba che si soffoca col pangoccioli Quindi un po' insensibile lo sei Minchia sto divertendo